E ragazzi io sono FeriNiki E io sono Stef E questa gioca è una haul.io Praticamente Feri sei un buco nero Piccolo 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 Più gente mangi più diventi un buco nero grande E puoi arrivare a mangiare i palazzi Bello E quello è molto figo Cioè tu parti che magari mangi qualche piantino Una panchina Le cose tibili Le persone Le cose tibili Diventi un po' più grande Iniziamo già le auto Che è interessante Poi diventi gigante E ti mangi i palazzi interi Bello Una figata Non preoccupiamo Allora per telefono lo trovate facilmente Rinnovamente come si chiama All.io Quindi buco.io Allora play Mi lascio il colore blu Ci siccome ci sta Cos'è sta roba a fare Allora due minuti per essere il primo Drag your finger to move your haul Vabbè l'abbiamo capito L'abbiamo capito come funziona Vedi 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 Quindi adesso prendi i lampioni Le persone Ok Gli altri player li puoi pappare oppure no Sì certo Comunque Punto io È sempre pvp Devo dire che È un po' difficile muoversi Ah ok Opla passiamo qui in mezzo Buongiorno Guarda quanta gente Vedi 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 Li hai messo un po' Eh ho notato Ok con questo dito Vado leggermente meglio Vabbè però io non vedo una ceppa Perché c'è tutto il manone È così Di fronte Quindi è difficile Sì va meglio E se usassi la sinistra Sarebbe perfetto Ma le auto possiamo già No siamo troppo piccoli No troppo piccolo E vabbè ho capito Ma qualcuno da mangiare Ci serve un parchetto Un parchetto è il posto giusto Vedi anche queste cose Ma tipo qua lampioni Tutte ste robe Guarda Vedi sono già più grandi Ora mangio le auto Secondo me Vai Opla Fa proprio l'effetto Li abbiamo distrutti Le stiamo baggando Steph E ho capito Ma non riesco a mangiarle No allora vattene dai Questo sta Sto baggando tutto Che poi Una cosa particolare È che tra un minuto Finisce il tempo E vince Che ha fatto più punti Eh infatti te l'ha detto all'inizio Due minuti per essere il primo Che nel punto io Di solito non c'è Esatto Oh mamma mia Quello è enorme Quello è gigante Ok Ma tutto bene Te lo devo dire Stiamo facendo schifo Come buchi neri Cioè c'era quella enorme Che si inghiottiva il palazzo E noi siamo ancora qui A mangiare l'erbetta Hai visto? Guarda però Adesso è un figo no? Opla Opla Olle Dove stavi andando Piccolo civile Sono ultimo comunque Credo Ok Povero Stefanot Ah però Vedi inizio a mangiare sempre più No stai lontano da me Mamma mia se ti piglia questo Vieni qua Vieni qua Uh Ah però torno in vita Ah vabbè carina Carino A me piace che sia molto diverso Dei classici punti Cioè è molto diverso Lo sei ripappato Sì Pensavo se è quello di prima Pensavo se è quello di prima No 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 Non sei simpatico Non sei simpatico Sei troppo grande Vivi Siamo arrivati i quinti Però non so In quanti eravamo In sette Non è proprio È andata malissimo Continua Dobbiamo riprovarci La seconda volta andrà meglio Pubblicità Vedi Vedi perché stai andando meglio Sono bravo a giocare adesso no Con questo tasto schifo Ok Pronta Sì Allora cambiamo colore Anche secondo me il colore È colpo del colore Arancione Arancione Un bel colore forte Stef acceso Che intimorisce gli avanzati Adesso mi fatti a muovermi Ok vai Vai Ok guarda Vai Go 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 Ma non l'hai preso Perché ci metti un po Quando sei piccolo È notato Sembra appunto Che caschi Non l'hai fatta È fatto molto bene Ha fatto molto bene Molto carino È però Basta mangiare queste cose E forte diventi più grande lo mangi si stiamo andando molto meglio stiamo andando molto meglio ma mangia di tutto questo è bellissimo sto parchetto stef tutto ho mangiato tutto raga questa la vinciamo questa la vinciamo lo hai sentito guarda come mangio tutto fare dimmi che posso già mangiare le palazzine no sei troppo piccolo questa sì una volta una volta no ma è bellissimo che cadono come se davvero guarda un buco nero bellissimo stava chi vuole ritigare chi ne vuole sono secondo non sono neanche primo sto andando bene ma sono lo stesso secondo ho mangiato due player in una sola volta si è sempre meglio di quinto si guarda che è una figata sto giochino lo sto prendendo troppo sto giocatore ti stai gasando sto nientendo tutto guarda guarda sono primo eh sono primo piano piano devi digerire stef piano no non ce la fai ancora prendi quelli più piccoli volevo capire cavolo sono di nuovo secondo il tipo è bravo eh il tipo è un buon buco nero però cavolo se mi sono mangiato una roba grande porca miseria devo essere un po più fluida nelle cose via 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 tutti questi palazzini dai dai e con questi palazzi questo è troppo grande 30 secondi rimanenti siamo vicinissime io le punteggio fatemi mangiare questa roba è difficile capire quando puoi e quando non puoi eh però sono diventato ancora più grande quindi questo no mi sa che devi diventare proprio enorme per mangiare i grattacieli ok vieni qua bel player ok che c'è dato un sacco di punti 10 secondi rimasti devo prendere queste cose che almeno sono sicuro di poterle mangiare questo ok questo dai secondi dai questo vale un sacco di punti cavolo peccato eravate sempre lì primo secondo primo secondo 7 7 1 e mi ha dato un cento di di schiaffo perché non ho saputo ben capire quanto potevo mangiare più grande rispetto a me prego no grazie no è carino faccio schifo dai fai 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 tutti ti vogliono perché mi devi far fare una figuraccia perché tutti ti vogliono vedere giocare è un gioco carino aiuto stef come si leva 15 secondi di pubblicità saremo a full screen diciamo è carino è semplice e secondo me tutti esalti quando inizi a mangiare perché tu mi hai detto stef sei impazzito adesso lo vedi anche tu ti senti potente senti di avere il potere tra le mani io sono scarse appunto io capito no ma questo è proprio facile cambiamo colore ok però mi piaceva l'arancione ecco che va sul viola o sul rosa questo va il colore ok va bene poi basta che premi like se fai play e rimango stefano ottorosa si dai stefano ottorosa ci sta se ci vede qualche consolino non mi interessa vai ok ok capito movimento si 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 perfetto hai capito che conviene puntare sui pali e su queste cose si ma è difficile dove sono vedi mi sto già perdendo stef tu vieni qua tranquilla tranquilla donzella donzella qua 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 ok bravissima è un bel posto qui dentro non ti preoccupare non girare troppo intorno vai dritto verso una direzione a un certo punto ok ok esatto continua a percorrere battene ok vai 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 quella roba buona roba buona si tutti i pali però non li sto prendendo aspetta ok le macchine no ancora troppo presto ancora troppo presto panchine ok col cestino secondo me lo puoi prendere vabbè vai avanti vai avanti sto perdendo troppo tempo no vabbè non sei male non sei male ce la puoi fare è difficile lo so bisogna ben capire quanto sei grande quanto riesci a mangiare perché vedi con le auto ci sei già quasi quindi ignorale ancora appena diventi più grande le puoi mangiare vai 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 mola 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 qua nel parchetto hanno finito tutto no vai via brava 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 ok 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 vai verso qua 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 tutto tutto l'auto bene 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 ok l'auto bravissima o continua così qua ci sono auto per forza alberi ok lampioni tutte quelle robe perfetto aspetta però qua ci sono tante auto che secondo me sono ottime non lo so perché ne passano troppe poche ok stai missando un po tutto ok molto più grande ora le auto vanno ancora meglio perché le mangi più in fretta ok perfetto non andare lì qualche palazzo ci riesco no troppo presto ma che cavolo aiuto staff ma che era sta roba sta già a 700 ma che era no basta mi arrendo è difficile sto gioco ti ci devi abituare un pochettino ma non è bella la sensazione ma è bello è molto carino e ben fatto vero è una bella sensazione poterli inghiottire ci hanno spazzolato tutto e beh quel tipo fare cioè fa un passo è abnorme e mangia la città guarda è vuota la città lo so è più forte degli altri considera che quello che ha vinto contro di me prima ha fatto 770 questo chiude a 850 900 ha chiuso a 900 è esperto di ho visto gioco stef però sei arrivata quinta prima io ero arrivato quinta no? si quindi hai fatto uguale a me bravi dai siamo buone persone ora però diciamo vai rimani stefan ottonosa vai è che noia vabbè in qualche modo i soldi se li devono fare fare non ti lamentare ok ok che poi tecnicamente qua ste paghi nelle pubblicità dovremmo ricordarci di pagare per toglierle se gioco gli diamo un po' di soldini almeno non rompiamo le scatte di video esatto subito velocissimo perché stefan ormai ha capito dove stanno le cose da mangiare vedi l'importante è correre allo start l'importante è correre perché tu trovi tutti questi paletti diventi subito un pochettino più grande e a quel punto è fatta assolutamente perché il difficile è l'inizio infatti sono primo ok 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 ora sono secondo però già più grande mi basta un'altra volta più grande e secondo me ci sono uh le auto parcheggiate e ho pure il parchetto se riesco a mangiarmi tutto qua ho un vantaggio enorme su tutti il player il player ok lo lasciamo però c'è quello forte quindi fa attenzione si tranquilla 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 guarda questo parchetto non c'è più bellissimo questo parchetto non c'è più vieni qua gnam vieni qua gnam vieni qua gnam bellissimo ok sono molto in vantaggio su tutti se non faccio scemenze ce la faccio i palazzi i palazzi tutti i tuoi tutti i tuoi esatto esatto guardalo stef questi sono tantissimi l'hai sentito non ci sono più palazzi in città c'è un nuovo re in città e un buco nero che si chiama stefanotto del rosa è rosa signori ti fanno male incredibile ti ferma totalmente più bello a me appunto io di solito non fanno in pazienza del tutto mi piacciono sono carini tipo quello di fornite era troppo carino quello era troppo carino e anche qualcun altro ma a me questo piace più eh questo è bellissimo a me questo piace più di quello di fornite ci sta è bellino perché è diverso e vabbè tutto il grattacielo vai stefan che questo anche questo oh ti stai incastrando vai attenzione oddio oddio poverino sì ma tanto c'è mi da talmente pochi punti vabbè vieni qua dai visto che ci siamo tanto allora io voglio battere il record di quello che hai sfidato tu prima per sentirmi il vero campione di questo gioco e aveva fatto 900 però vedi a me i palazzi si incastrano vieni qui niente è difficile non mi so ancora regolare e gestire in questi momenti però incredibile quanto mangia alla fine lo stai mangiando totalmente non ti che stai facendo scattare il gioco quanto mangia attenzione attenzione 895 ci sei andato vicinissimo dai bello bello siamo riusciti pure a vincere e comunque il secondo stava remunta andando malamente 608 punti mi stava recuperando io ero stra in vantaggio all'inizio vabbè ragazzi io sinceramente è modalità singola perlomeno sembra mappa singola e tutto ma lo trovo più divertente degli altri punto io è bellino è proprio bellino quindi ve lo consiglio sinceramente davvero davvero carino andate a provarvelo e vedete se riuscite a battere 895 punti secondo me almeno 1100 si può fare allora io lo dico se battono il tuo record screenshot su instagram ci mandano lo screenshot su instagram perchè sennò è facile dire ah l'ho battuto noi vogliamo le prove quindi se battete step lo screenshot su instagram ok va bene comunque qua sotto altri video ci fermiamo così iscriviti al canale campanellina e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao